E' stato colpito alla testa da un grosso ramo mentre stava lavorando. Purtroppo non ce l'ha fatta l'operaio di 63 anni, rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel Maceratese. Doriano Maggiori è morto all'ospedale Torretti di Ancona a seguito dei gravi traumi riportati. Lunedì mattina l'uomo era impegnato nella pulizia degli argini del Potenza in località Valle dei Grilli, tra San Severino e Castel Raimondo. Quando il 63enne ha tagliato un albero, questo è finito contro i grossi rami di una pianta vicina che si sono spezzati col pendolo in pieno. Per soccorrerlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che lo hanno liberato e affidato al personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono apparse subito serie. L'operaio è stato trasportato d'urgenza ad Ancona in eliambulanza, ricoverato in prognosi riservata. Il 63enne è spirato dopo alcune ore in cui ha lottato tra la vita e la morte. Sono stati fatali le lesioni causate dall'impatto del ramo su di lui. A San Severino, sul luogo dell'incidente, sono arrivati anche i carabinieri e gli ispettori del servizio prevenzione e vigilanza negli ambienti di lavoro dell'Ast. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che la ditta per cui lavorava avesse predisposto tutte le misure di sicurezza per il personale, rispettando le regole specifiche del settore, ma nulla è servito contro quell'imprevisto. Doriano Moroni lascia moglie e due figli. Boscaiolo esperto, cacciatore per passione, grande lavoratore, il 63enne era una persona ben voluta da tutti. Sotto shock la comunità di Apiro, che attraverso il sindaco Ubaldo Scupa ha espresso vicinanza alla famiglia.